Il decreto aiuti bis destina 17 miliardi a misure fondamentali per contrastare i rincari dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti. Contiene in particolare misure concrete volute dal Partito Democratico per aiutare lavoratori, pensionati ed imprese. Siamo però consapevoli dell'emergenza che sta affrontando il Paese e per questo chiederemo ulteriori interventi nel prossimo decreto.